Guida rapida di programmazione 1. Iniziare la programmazione. Premere contemporaneamente salita e discesa fino al movimento su e giù del motore. 2. Verificare il senso di rotazione. Se necessario, invertire la rotazione premendo il tasto MAI fino al movimento su e giù del motore. 3. Regolare i fine corsa. Fine corsa basso. Portare la tapparella nella posizione di fine corsa basso desiderata. Premere MAI e SALITA contemporaneamente. La tapparella SALE. Fine corsa alto. Portare la tapparella nella posizione di fine corsa alto desiderata. Premere MAI e DISCESA contemporaneamente. La tapparella SCENDE. 4. Confermare i fine corsa. Confermare i fine corsa premendo il tasto MAI fino al movimento su e giù del motore. 5. Memorizzare il comando locale. Premere brevemente il tasto PROG. Il motore si muove su e giù. Capulare nabla. Capulare. Capulare lo Release. Capulare. Capulare.